Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, veramente video minuscolo e veloce questo annuncio è solo per chi ha Facebook, quindi se qualche vostro parente, vostro zio, vostra nonna, vostro padre, vostra madre oppure anche voi e non avete votato questa cosa qui, andatelo a fare, votate il presepe, cioè che sta il link qui sotto nella descrizione schiacciatole, andate a votare il presepe che vi lascio l'immagine alla fine del video quindi guardate il video oppure già che sapete il fatto, andate alla fine del video, guardate quell'immagine e andate a mettere mi piace perché se questa persona o meno, se questo presepe vincerà, andiamo ad intervistare quello che ha fatto il presepe quindi è anche una cosa per il mio canale, quindi andate a votare, mettete mi piace e soprattutto anche iscrivetevi al mio canale mi piace questo video e ci vediamo domani con un prossimo video, ciao ciao